Ciao a tutti, sono Giulia Maceboome24 e siamo tornati con un nuovo video qui sul mio canale. Siamo qui con il terzo tutorial della settimana. Oggi vi spiegherò come vedere le serie tv dal proprio dispositivo. So che è disponibile per Android, ma non so se lo è per una iOS. Provateci e ditemi se funziona. Questa applicazione è disponibile sul Play Store, quindi basta semplicemente che voi scrivete il nome dell'applicazione che si chiama uizi.st Ok, è questa applicazione, ce ne sono due uguali ma io ho scaricato il primo, è uguale, tanto sono uguali appunto. Basta che lo apriamo. Aspettiamo il caricamento. Ok, allora dobbiamo semplicemente andare qui al lato dove ci sono queste tre righette e cliccare su i miei canali. Io ho già messo il link di un canale, ma voi se lo volete aggiungere basterà che cliccate su aggiungi canale. Io sinceramente come sito vi consiglio questo qui, ovvero filmpertutti.black Per inserirlo dovete andare su Google, io poi non conosco tanti altri siti quindi utilizzo solo questo. e dovete scrivere filmpertutti.black.com Aspettate, filmpertutti.black.com Vi copiate il link e poi andate di nuovo sull'applicazione e quando mettete aggiungi canale dovete cliccare finché non vi compare il tasto in colla e mettere inserisci. Io ora non lo inserisco perché già l'ho inserito e vi dovrebbe venire il canale che è stato aggiunto con successo. Una volta fatto dovete cliccare sempre sui miei canali e su filmpertutti.black e potrete scegliere se vedere dei film o delle serie tv. Con il tasto cerca possiamo trovare dei film o delle serie tv. Per esempio io voglio cercare una serie tv e metto il nome della serie tv. Non so... Fatemi pensare... Vabbè, se no cerchiamo un film. Se non lo trovate qui appunto basterà semplicemente che lo cercate. Fatemi pensare a un film. Ho cambiato idea, cerchiamo una serie tv. È uguale tanto, basta che sapete il nome, io adesso non ce n'avevo nulla in mente. Scomparsa. Scomparsa. Cerca. E vi dirà tutti i risultati. Ok. Vabbè, io in questo caso stavo cercando questo, ma era un esempio per farvi vedere. Poi, vabbè, qui vi spiego in breve la storia. Se girate troverete gli episodi e le curiosità. Andiamo su episodi. Clicchiamo sulle stagioni. In questo caso c'è solo una stagione. E dobbiamo cliccare gli episodi. Questo è il primo episodio. Quindi bisogna mettere cerca. Cioè, bisogna cliccare sul primo episodio. E scegliere uno di questi per trasmetterlo. Io in genere utilizzo speed video, ma non c'è sempre. Poi potete pure decidere se scaricarlo. A volte non funziona, anche se l'hanno aggiornato e quindi adesso dovrebbe funzionare sempre. Io metto riproduci. E dovrebbe partire. Vediamo se parte. Ok ragazzi, è partito. Questa, no, è una pubblicità, però adesso dovrebbe partire. Ed ecco qui che sta partendo. Vi fa vedere la durata. Potete anche mettere i sottotitoli. Vabbè, insomma, adesso sta partendo. E se riuscissi a stoppare, ok? Niente ragazzi, fatemi sapere se questo tutorial vi è stato utile e se ci siete riusciti. Se sì, vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al mio canale. E niente ragazzi, noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!